Ma sarà sempre così, ovviamente non siamo allineati su tante cose, su altre cose collaboriamo, quindi gli apporti personali tra me e Fontana sono anche buoni, poi alla fine ogni tanto vola qualche parola di più, ma non è quello il problema. Bisogna collaborare, quindi c'è poco da fare, soprattutto sulle Olimpiadi, sapete che i prossimi due giorni saranno decisivi, domani vedremo i candidati e poi il giorno dopo a Roma, io mi auguro che si arriverà una decisione. Qual è la sua idea appunto sul board, sui candidati? Ma no, io trovo che siano tre candidature buone, quindi l'ho già detto, non farò una battaglia per un candidato, ma esaminiamoli perché poi sarà importante vederli di fronte a noi e vederli argomentare su perché sono motivati a fare una cosa del genere. Grazie. 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 Grazie.